Più o meno seconda parte del video del nono anniversario di Dokken insieme sempre a lui Sono passati due giorni dall'ultima multi Sì sì Ci hanno messo le stesse manette per fare uguale In questa parte del video io passerò a Brody, lui già ci è passato nello scorso video Andatelo a recuperare, mi raccomando, nelle schede, in descrizione Comincio io perché lui già ha la seconda parte del giro e quindi Sballerebbe un pochettino il ritmo, al massimo facciamo tipo io due, lui una e cose del genere Si può fare Partiamo, partiamo Cosa c'è di interessante? C'è Krillin Un Krillin, ecco comunque è Banner Non è garantito Quindi, vabbè, il mio giro finisce qui Io sono stato contento di questo breve video Oh, oh no Eh, quindi che spiegherò prima Quindi tre Brody ci saranno Tre LR, vinca Ce l'ho già Abilityful Vabbè, ne puoi fare un altro Abilityful Ah certo, faccio un bel gogetto, attenzio anniversario fisico Abilityful due volte Ah, il grande meme Vabbè, ok Che comunque ti posso dire che io ce l'ho tipo Ability 1 lui, quindi Davvero? Ma c'è ancora la gogetto intra? Sì, ma non è full Ability Ah, ecco Quindi per farti capire E procedi di nuovo tu, ne fai due turni e uno io Hai ragione, devo farne due io Quindi si vanno un po' più spediti Qua dentro Però, alla fine, gogetto era quello che Non ti lo incontrava di più Però O vuoi dire Puntavamo a quello Ma perché comunque Brody si è extreme Però Dove lo giochi? Nel Team Super ovviamente Perché alla fine è un Super Saiyan Tu eri alla prima della seconda parte, giusto? Io, sì In primo multi ancora E' lui E' lui E' lui E' lui Non è ancora detto Non è ancora detto Non è ancora detto che tu abbia vinto Perché Se io riesco a trovarlo dentro queste quattro multi È un bel pareggio Posso andare allora? Mmm Ho visto un Yanco Fusion, dal nulla Ah, con gli Anco? Per quello motivo Con gli Anco Che bella vita Va bene È un Gogeta Super Saiyan Normalissimo Con i capelli biondi Oh Non credo sia tu Il personaggio banner Con tutto il bene del mondo Non è che Possa essere 3SSR Anche con No, non credo Con Gogeta No, smettila Smattila Ah, no, è vero Infatti hai ragione Ah, eh Quello è Puoi arrivare Zamasu Ah, è buono Ability 1 Mmm Ma che c'è il banner Aspetta, vets E' anche un Goku Super Saiyan Molto arrabbiato Ehm Tocca a te Devo farne due Devo farne due Devi farne due Sì C'è Tien Con la Fusion C'è qualità C'è qualità Basta E basta L'attivizione Come sempre L'attivizione Mannaggia Il marcaspio Cacarotto Basta Basta così Grazie Secondo me Non c'è Secondo Broly Ah C'è l'ability free A me va benissimo Assolutamente Va bene No, no, no Anche a te Immagino va da bene No, a me va benissimo Siamo contenti Forse io ci ho ability Grazie No, no No, no Anche tu ability Uno Ci facciamo compagnia Dai Anche Un altro Un altro Ancora E chi sono loro Wow Li sconosco Mi spiace Penso che sia un giallo Aspetta, cavo Caspi Io potrei fermarmi Però non posso Andrì, no Lo so Vabbè Eh, se vuoi fermarti Con la free Come a Io Quindi un team di due In questo momento Ho molta ansia Ansia Con i free Di Inside Out 2 Mi raccomando Tanto a vederlo Che ci sono Anch'io Da Devo Anche dai Devo rimediare Devo Eh, sì Anche diamo il sistema Ovviamente Devo rimediare C'è un vegeta Che potrebbe dare Una fusion Potrebbe dare In effetti Una fusion Che è una cosa Si spera No Super Saiyan Triste È molto triste Questa Ce l'avevi abiti Oh Un altro LR Che mi mancava Posso dire Anche se sono Un po' vecchiotti Eccola Gisica Sì I Super Saiyan Blue physical Ho anche perso Il conto Va bene Vai tu Tu per caso Oppure ti vuoi fermare Aspetta Sto pensandoci Tu C'hai questo qua C'hai questo qua Questo trans Sì Ovviamente C'hai cooler Sì Come sì Quindi comunque Sei al di sotto di me Ti manca trans Ti manca cooler Questo nel video Per parlare di quei pg Ok Hai ragione È un'altra cosa Sono ci l'anno scorso In cui non ho pubblicato Il video Perché Non ho trovato niente Perché non hai trovato niente Facciamo una sfida Avevi vinto Ho proprio così Facciamo quella 32 Fine 30 E 30 Non sono nulla Due gogetta Adesso Così Questo video Mi è crashato Aspetta No Non mi è crashato Ultima multi Quei che sfido SSR garantito Banner Quindi Magari Vabbè Qua Tutti quanti Possono uscire Una fusion Che secondo me Dovrebbe essere Quanto meno Blu Quanto meno Minimo E invece no Ho i miei dubbi Sulla sua esistenza A questo punto Concordo Oh Eh dai Dai Abiliti Però il meme Di gogetta Non esiste più Almeno quello Almeno quello È una cosa positiva Mi ritengo Parzialmente soddisfatto Ma sai che ti dico Sì Dai Sì L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto L'ho fatto Con te Ma non ci posso Crede Nessuno Nessuno Neanche io Oh Multisincronizzato Eh Potevo aspettarti Mannaggia Vabbè ci siamo Che ti è uscito Come suona Non mi ricordo Settimo Oh Chi è lui Un comparsa È comunque Un SSR È quello In vera Oh scusa L'ho fatto Presto Sembrava Vai Wow Wow Che schifo E quindi Non si aspetta A con list Cioè per me Per te Con tu Continuare Con la tua Scalata Verso il milione Possiamo Non pubblicare Questo video Lasciamo Soltanto il primo Ah certo Non so Dimenticavo Passati Nei canali Di lavoro E anche Quello di Marcus Che lo lascio Qua nelle schede In descrizione Come sempre Cavolo Cavolo Quindi festeggiate Sempre Non l'hai fatto Grandissimo Ma Me l'ero Di fatto Quindi lo sto Facendo adesso Questo video È tutto Quindi vi Vi auguro Una grandissima Buona